La comprensa è una buona gara anche perché non era facile, su quelle partite da vincere per forza ovviamente non è mai semplice, tante cose positive, tante cose buone, forse dovevamo riuscire a dare uno schiaffo definitivo un po' prima, dovevamo essere un po' più cinici, però la comprensa è una partita da vincere e così è stato, devo dire che, ripeto, ad esempio quando gli ha subito 5-0, ci sono dei momenti in cui siamo un po' distratti, questo ovviamente non deve accadere, però non è complesso, tante cose positive, tengo a precisare che Daniele ovviamente è la prima partita dopo l'infortunio e quindi è normale che sia un po' indietro. Sant'Angelo, tutta la settimana la febbre, è stato sfebrato ieri sera, stamattina è la 38 e comunque la mano ce l'ha data, quindi effettivamente hanno messi che si è fuori come sapete, quindi non è una scusa che abbiamo vinto, era solamente per dare a voi un'idea anche della difficoltà che c'era nel termine della partita, perché effettivamente è una mortazione un po' corta, con Daniele che avete visto fuori ritmo e ci sta, quindi è ancora un'altra settimana tutta, ripeto, Sant'Angelo è influenzato, quindi mi ha detto, guarda, coach provo, sono morto su un cadavere, perché stamattina è la 38 ancora, ho avuto 39 per tre giorni in fila e quindi racconto. Quindi nel complesso vi devo dire, è vero che dovremmo essere più attenti in alcuni momenti, però in campo ci vanno anche gli altri, ma sarà ovviamente mia premura, nostra premura cercare di togliere questi momenti di calo. Nel complesso devo dire che la squadra ha fatto una buona partita, con un bischietto percentuale, da rivedere un po' forse l'impasto e l'attacco loro concessi, ma nel complesso, ripeto, partita direi, condotta abbastanza bene in pochi. Buonasera intanto, anche stasera il numero degli assist si attesta intorno ai 20, sono 19, che è una cifra che più o meno garantisce la Virtus e la vittoria. In più c'è, oltre alla partita ovviamente di Murray Sims, le grandi prestazioni anche un po' silenziose di Saccaggi e di Ali Begovic e la solida, ottima prova di Landi. Si è oramai trovata quasi una quadratura del cerchio? Sì, noi siamo più o meno questi, chiaro che ovviamente in questo momento qua dobbiamo riuscire a togliere, secondo me qua che sono un allenatore non è mai contento, nel senso che il mio lavoro è quello di cercare di migliorarci ogni giorno, per cui devo cercare le cose che non vanno. Tu hai legato tante cose positive e ti ringrazio che fortunatamente c'è anche chi guarda le cose fatte bene, però nel mio lavoro è cercare di migliorare anche le cose che si possono migliorare. Lo assoluto è quello di concedere meno rifatti d'attacco o una partita del genere, perché forse abbiamo permesso di stare in vita un po' di più, con il momento in cui abbiamo fatto quella palla persa o rimessa che non può accadere, quelle piccole cose che ti devono garantire una tranquillità diversa, una partita diversa, che ti permettono appunto di andare sopra invece che di 3-4 vai a 20 ed è un altro partito, quindi dobbiamo cercare di essere un po' più lucinici, dare una coltellata giusta al momento giusto. Però le tante cose positive che tu hai detto sono effettivamente cose che te ne sono importanti. Lì che ha fatto una partita buona, ha fatto il canestro quando contavo alla fine di difesa nel complesso bene, perché comunque ha fatto 66 punti, quindi onestamente la squadra ha difeso. Però ti ripeto, giustamente si parte le cose buone, cercando di migliorare le cose che ti ho detto. Grazie. Io non voglio fare quello che non prendo le scatole. Però. 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 No, no, allora, prima di tutto hai ragionissima, non era veramente facile, veramente facile, con tutto quello che c'è stato, prima della Coppa Italia che io l'ho trovata una bellissima ciocavalcata, mi siete divertiti, avrebbero fatto due buone gare, direi che torna niente. Però io vorrei farti ragionare sulle 19 perse contro le 9 e, nello stato di tutto, Roma più di 13. Quindi sembra che c'è stata una superiorità schiacciante. Cioè, loro hanno giocato, al mio modesto avviso, male, male, male. Era impossibile perdere. Però ci sono stati alcuni momenti in cui hai dato la sensazione, tu come che tu sono Roma, di essere in quasi controllo. Hai chiamato quei time out? Perché? Hai pensato, oddio, in questo momento, pure se siamo sopra di 8, siamo sopra di 10, è bene che tiro le briglie perché se ne potrebbero, ci sono state delle perse allucinanti, cioè quella sulla rimessa, in uscita dal time out, è incredibile. Quindi una grande vittoria. Però ritieni che questa squadra sia troppo ancora un po' ferita dal punto di vista, direi, mentale. Non riesce ancora a essere tanto serena perché oggi l'avversario ha fatto, chiedo scusa, chiudo, ha fatto di tutto per farcela vincere. Scusami se sono andato un po' lungo. Boh, ti dico, se io non posso guardare gli altri, guardo in casa mia. Lui hai fatto la nostra partita, sinceramente, quindi ti dico, abbiamo avuto 4 palla persa sicuramente, però adesso abbiamo tirato anche molto bene, perché se ti guarda una percentuale da 2. Il campo del 54 è buono. Buono, secondo me. Sì. Per cui ti dico, sinceramente, ti ripeto, tante cose positive, ma sicuramente ci sono delle cose che mi hanno fatto arrabbiare, il time out non ho dovuto per quello. Ma è normale che ci sono delle cose anche sulle quali, però psicologicamente era una partita ovviamente difficile perché dovevi vincere per forza per andare a riempire la domenica prossima, ma ovviamente la testa dei ragazzi, normale, che si vedeva, era già parecchio, poi volontariamente il pensiero era già domenica prossima, quindi c'era questa cosa, questo passaggio che era comunque complicato da un punto di vista emotivo. Però, ti ripeto, è giusto fare attenzione delle cose per migliorare, ci sono anche tante cose positive. No, 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 certo. Coach, buonasera. Ciao, buonasera. Volevo chiederle se in questa partita lei ha visto un diverso equilibrio che c'è tra il duo talentuoso americano e il gruppo dei ragazzi italiani, nel senso che nelle scorse partite il numero di possessi che prima ha giocato la Sims sembrava essere maggiore rispetto a quello che si è visto oggi, c'è anche le scelte che fa Sims in questa partita, anche i giochi a due che per esempio hanno fatto credo tre o quattro volte l'Andy e Sakagi, si è visto oggi forse un aumento di responsabilità che si sono presi proprio coscientemente il gruppo dei ragazzi italiani rispetto al duo americano? Sai, Henry deve capire che se passa la palla diventa un valore aggiunto importante, ovviamente viene spesso raddoppiato, triplicato, deve trovare un uomo, le due bombe del primo tempo, di Nietzsche, tra l'altra e la mia banchina se vi ricordate, palla dentro, due volte dall'altra parte, sai se fa questo, lui deve capire, è chiaro che un giocatore come Lucia la palla in mano, quindi il canestro lì è vicino, diventa veramente come un bambino davanti alla torta, no? Perché è talmente vicino, lui è così alto, si sente così onnipotente, e invece è difficile, come dice di dire che è un giocatore espertissimo, comunque viene raddoppiato, per cui l'idea della forza è di buttarla fuori, stiamo lavorando, sto parlando parecchio, perché deve trovare il giusto equilibrio, riuscire a fare una cosa per sé, ma riuscire a fare una cosa che per gli altri, quando la fa per gli altri sono assist, e alla fine effettivamente produce gioco, ed è effettivamente importante che lui riesca a fare effettivamente questo tipo di gioco che coinvolge anche gli altri, ha preso meno tiri, la squadra ha giocato comunque in alcuni momenti anche bene, in altri momenti meno, io sono ornesto, però ha fatto una buona cosa, per cui è importante che lui sia coinvolto, ma che riesca a coinvolgere gli altri, questa è una cosa importante. E vuole raggiungere, se posso chiedere un commento sulla stagione di Paldasso, perché pure oggi fa una partita di, secondo me, di grandissima gestione all'interno della partita, ma cerca sempre di andare al passaggio piuttosto che al canestro, e secondo me non è scontato, perché da un anno come quello precedente ad un tipo di anno come questo, con pressioni e ambizioni chiaramente maggiori, e giocare questo tipo di stagione. Guarda, quando sono arrivato qua a marzo, se vi ricordate, tutti in Paldasso con le due giocative, come c'erano, se vi ricordate, l'anno dei soci, una socia, le risposte, il gioco bene, il gioco male, c'era un rapporto non buono, il ragazzo non è la serena, onestamente il lavoro da un anno esatto, perché l'anno va, sono venuto qua, da un anno esatto oggi. Io, di Paldasso, sono stra-contento, per me è un giocatore che ha talento, un giocatore che ha numeroso, si continua a lavorare, come fa, con molto impegno, ad esempio, ieri rimasto in palestra un'ora e mezza in più a tirare, ha fatto 600 tiri in più con il mio assistente, perché appunto vuole migliorare, perché vuole controllare e andare avanti, quindi quello che tu mi dici mi fa piacere, ma sono un po' tendo per lui, perché è un ragazzo che ha ambizione, giustamente, però sta crescendo a personalità, c'è tanto d'accordo a fare, però secondo me ha fatto un anno veramente molto buono, io giudico quest'annata, ha fatto un anno veramente eccellente, sono molto contento. Prego. Non sto a parlare per la partita, perché a sei giornate dalla fine non si chiede stare a cercare lo spettacolo, c'è una pressione, le squadre sono tutte lì, chi se ne portano? Scusami il francesismo, però volevo notare una cosa, terzo o quarto, secondo me è andata parte di quattordici, poteva andare di sedici ma è stato annullato un canestro, un contro pietro, sono stati arrivati due due di liberia a San, e poi sono rientrati loro, in quel momento era molto stanca la squadra, quelli che hanno sul partito a mio giudizio, sims in primis, ma Dio, perché non lo cambia? Tu hai detto, chiamatela, lo hai messo dentro. Hai riacchistato un po' di fiducia, a questo è un processo che tu l'abbia mai persa, però sei un po' più tranquillo adesso e sai che puoi posare un pochino di più sims quando è proprio con la lingua di fuori, perché ama dietro in campo e fa quello che Piero Pucchi vuole da lui, bene, ma... aveva fatto una buona partita ed ha bisogno di giocare bene, perché ovviamente ha fatto una partita molto altalenante, intanto il ragazzo ha delle qualità straordinarie, secondo me ha un talento eccellente, deve riuscire appunto a gestirlo, perché... e non è facile anche, venendo fuori dal college, andare a giocare in Europa, non è facile per nessuno, dopo quattro anni che ha giocato là, effettivamente, in un altro mondo. Detto questo, è chiaro che Samara riesce a giocare, stare in campo mi aiuta molto, perché ovviamente mi aiuta adesso che aiuta la squadra, perché ovviamente è riposo di posare, questo è ovvio, quindi poi considera che noi vanno oggi di Petro Sandri e Santiangelo, onestamente, non per l'inultima, per Daniele più che giustificato, così come Marcos, Daniele è la prima partita che ha fatto come se fosse il torneo di Piombino, hai capito? Lui è stato quasi, nel senso che ha fatto la prestagione, oggi, però da domenica prossima spero che riesca a trovare quel ritmo di cui ha bisogno, mentre Marcos, prima partita dopo un mese e mezzo, e Marcos stava veramente male, quindi che la squadra fosse in alcun momento un po' stanca, più di qualità non mi è sembrato, Henry forse, perché venne frullato ogni tanto, però alla fine quello tolto, quando ha fatto un errore di troppo, è riposato. Senti, volevo sentire da te due parole, su Pratine, che secondo me, al di là di quei numeri che ha fatto, a livello di tutti i punti, perché spesso se ne parla soltanto quando si legge il giocatore, per me oggi lui ha veramente mandato alcuna lingua di fuori, un giocatore che ha vinto anche con Bologna, ha giocato con un giocatore che si fanno le domenica, che è il prezzo di Zaglio, per cosa vuoi dire? Sì, Momo è un giocatore di grandissima energia, un giocatore generoso, un giocatore che ha grande spirito di sacrificio, ha contato veramente alla causa, per cui sono molto contento del suo arrivo. La domenica prossima, piantissimo che se Massimo sarà recuperato, ovviamente ci sarà un'opera, perché ovviamente uno deve stare fuori, quindi si vedrà in settimana, come sarà il giocatore che è più, magari, giusto che rimane fuori, pur con la morta nel cuore, perché ovviamente devo reclutare tutti, ovviamente, perché tutti questi ragazzi che va a mezzano di stare in campo, però questo è il regolamento, come abbiamo a scuola fatto di 10, dobbiamo ovviamente fare la scelta. Grazie. Prego, ciao. Allora la prossima è Rieti, e mi ricordo che all'andata di Rieti c'ha un po' imbrogliato dedicato per l'energia, come si incappa il Bobby Johnson, la maestria, il board, quello che abbiamo visto qui. Che energia, quale energia va a portare Roma a Rieti? E' una prossima. Ma secondo me sai, i ragazzi sanno delle importanze della partita, quindi sono convinto che è una partita sicuramente intensa e di energia, perché se no non possiamo prescindere da questo, assolutamente, quindi bisogna che, i ragazzi lo sanno, domenica sarà preparato tutti questi motivi una partita molto semplice, non è che dovrà raccontare tanto, tanto è normale che è una gara importante, quindi siamo, e arriveremo sicuramente consapevoli che è una gara, poi vediamo se chi la vince, però di sicuro sarà una gara dove la squadra ha idea di cosa ne vuole fare.